Un'organizzazione mafiosa radicata ad Ostia ma con contatti con Cosa Nostra, che autorizzava omicidi e gambizzazioni, che si finanziava con istorsioni e narcotraffico e che intimidiva e assoggettava le vittime con le armi, le violenze e le minacce. Sono queste le frasi più significative della ringa dei PM Calò e la Speranza nel raccontare l'attività del clan dei Fasciani e per chiedere la condanna di 12 dei suoi membri. Secondo le accuse e secondo le indagini della squadra mobile, l'organizzazione si era infiltrata nel territorio, aveva indotto la popolazione all'omertà e all'assoggettamento, sfruttando anche quella zona grigia fatta di chi sapeva ma ha preferito far finta di nulla per trarne beneficio, come commercialisti, direttori di banca, amministratori, politici e imprenditori collusi. Per i 12 indagati l'accusa è di intestazione fittizia di beni con l'aggravante del metodo mafioso, in riferimento a stabilimenti balneari, concessionari e immobili intestati a prestanome. La pena più alta, 10 anni di carcere, è stata chiesta per Carmine Fasciani, 8 per la moglie, 7 per la figlia Azzurra, con l'aggiunta di 3 anni di libertà vigilata a fine pena. Altre pene dai 6 ai 3 anni e 8 mesi, infine, sono stati chiesti per altri indagati, ritenuti membri attivi dell'organizzazione. Questo processo è un appendice di quello terminato a gennaio scorso, che aveva portato a 14 condanni e 200 complessivi anni di carcere, di cui 28 solo al capo della famiglia Fasciani.